ciao trote mi assicura che trote non è coperto da copyright ok ciao trote io sono s un signore chiamato s e credo sia arrivata l'ora di vendetta lui e soffì mi hanno sfidato hanno distrutto il mio canale io non sono cattivo io sono buono mi ci hanno fatto diventare così a furia di strike e vessazioni ed è per questo che ho creato un team per sconfiggerli il team dei malvagianti quindi se non volete che distrugga lui e soffì è necessario che questo video arrivi a 50.000 likes entro mezzanotte di oggi o anche entro mezzanotte di un altro giorno dipende dal giorno in cui lo state guardando il team dei malvagianti il mio team di potenti e cattivi che poi non è che siano veramente così cattivi e che li disegnano così ed ora vi presenterò il mio team il primo è sardoku un grande esperto di arti marziane e quando attacca lui attacca non c'è da scherzare con sardoku lui è pericoloso molto pericoloso poi abbiamo men of steel l'uomo di acciaio inox il suo nome è giorgio ma noi tutti lo chiamiamo pentola a pressione riuscirebbe persino a vendere un dizionario mister hide poi abbiamo ciccio gamer lord commander di grande inferno misantropo di se stesso uomo di successo ed anche un gran bel pezzo di figo può scatenare i suoi paguri carnivori david john fitzgerald rubino re incontra stato dei mari sa governare la flora e la fauna marittima al solo grito di i squali stanno arrivando e poi c'è lui il più forte di tutti l'uomo cocomero billy l'uomo cocomero è morto si lo so ce l'hanno portato via loro lui e sophie si devo dirti anche un'altra cosa dopo questo video probabilmente riceverai un altro strike no no tutto questo non è giusto se solamente le trote sapessero che io non sono cattivo se conoscessero la mia vera storia non capirebbero mai e perché no prova a chiedere a loro bene se volete sapere il perché io sia così cattivo dovete lasciare like al video molti molti like e tra qualche giorno conoscerete la mia vera storia grazie a tutti Grazie a tutti.